Quella che vedi è una bustina Pokémon di Clay Burst. Ma perché tutto questo scalpore? Perché all'interno di questo set si nasconde la Special Art Rare di Yoro. Una carta che ha registrato vendite per oltre 1000€. A lei sei Shell me ne vado! E noi oggi proveremo a trovarla. E allora sbustiamo. Con molta gamba. Acquista anche tu sul Federick Store con il codice SGUAY. Cominciamo da Snow Hazard. Masquerade, Monkey, Boneswit, Arctibax e per finire... Oh mamma mia, chi è? Uuuuh, il nostro leggendario di copertina! Il momento della verità. Raichu, Knuckle Stack, Taruntula, Laxio e per finire... Un altro pool! Bello! Tinkaton EX. Seguimi per i prossimi contenuti.